cominciamo questo viaggio con far vedere al pubblico di facebook le condizioni in cui persa la mia camera una camera magari una guccia di questa tirrenia notate come sto combinato cioè se questa questo debba essere l'arma classe immagino le altre ma dentro a uno mio che tommeno con pavaglia cioè questo è tutto old block tutto rotto ammuffito zozzo luvido queste coperte manghigana e chi si mette totale il letto naif questa è la tirrenia prese elettriche rotte danneggiate vediamo un po il resto sarà un viaggio lungo vediamo un poco i bagni che sono i bagni anzi il bagno la doccetta manco di cani ma mi sa mi sa che mi tappo comunque sarà una lunga notte ma domani sarà un altro giorno 1x rosso e loara ciao